Il bilancio dei liquidi del nostro corpo è una funzione estremamente complessa perché si avvale di una serie di meccanismi. Noi abbiamo due meccanismi fondamentali che sono la sete. La sete è il meccanismo principe perché è uno stimolo automatico che ci richiede di andare all'accesso ai liquidi quando si modificano alcune caratteristiche biologiche chimiche della nostra composizione corporea. L'altro meccanismo è a livello renale attraverso l'azione di un ormone che si chiama ADH, ormone antidiuretico, che regola la permeabilità delle cellule del rene nei confronti dell'acqua e quindi è un po' la chiave per aprire o chiudere la porta di ingresso o di uscita dell'acqua a livello del rene. Questi meccanismi si mettono in funzione sulla base di stimoli che partono da alcuni recettori. Noi abbiamo dei recettori che si chiamano barocettori che leggono la pressione dell'acqua all'interno del nostro corpo, quindi il contenuto quantitativo di acqua. E poi abbiamo dei recettori che si chiamano osmocettori che invece leggono la composizione del nostro corpo e quindi la concentrazione dell'acqua. Questi due tipi di recettori agiscono proprio sullo stimolo della sete e sulla secrezione di questo ormone ADH. Quindi è una regolazione che avviene in doppio partendo da due parametri differenti. Il prodotto finale è quello di mantenere un bilancio corretto dei liquidi del nostro corpo. Alla prossima Alla prossima Alla prossima